allora sono qua e voglio provare quest'anno con mia ragazza di quinta a risolvere le travi con carichi concentrati anche distribuiti tramite con solidworks e allora per far questo mi sto allenando per poi creare anche una lezione con delle esercitazioni e ho cominciato a fare con questo esempio qua e dunque è una trave lunga 5 metri con un carico più uno di 2000 newton p2 di 5000 e p3 di 1500 distribuiti in questo modo qua posizionati in questo modo qua rispetto all'origine a questo punto mi sono creato questa questa trave l'ho semplicemente fatto un'estrusione non ho usato gli elementi strutturali ho usato semplicemente un'estrusione e che anche di misura ho fatto ho fatto 10 mm per 30 per di altezza 30 così ok ma questi non influiscono per trovare le reazioni vincolari e il diagramma dei momenti e dei tagli a questo punto la prima cosa da fare assolutamente è tratta come trave dunque l'icona cambia ok in automatico lui già trova i due posizionamenti qui io posso andare qui modifica ok per aggiungere togliere calcola lui già in automatico come ha calcolato l'uno e il due a questo punto devo andare a mettere dei vincoli e naturalmente qui metterò una cerniera e di là metterò un carrello dunque andrò a fare geometria fischer ok si apre qui uso nessuna traslazione dunque e seleziono questo questo punto dunque è proprio una cerniera che può fare tutte le rotazioni ma non si può muovere e faccio ok a questo punto vado qui faccio sempre nuovo faccio sempre geometria fissa ok questa volta usa geometria di riferimento e vado a schiacciare questo a questo punto qui se lascio tutto così questo si può muovere da tutte le parti ok invece io andrò a bloccare dicendo che andando a mettere schiacciando questa superficie andrò a dire ok in questa direzione rimani non ti puoi spostare e neanche in questa ok a questo punto mi si creano le reazioni vincolari ok che poi è solido andare andrà a calcolare vediamo se possiamo qui possiamo aumentarle queste qua in modo da dunque qui da vedere che se ci sono queste vuol dire che qui e qui non si muove ok andiamo a vedere la andiamo a vedere di là e anche qui noi abbiamo che si può votare le tre direzioni ma non può andiamo a modificarlo modifica definizione e in questo modo nessuna traslazione impostazioni simbolo andiamo a aumentarlo e abbiamo i vincoli nelle tre direzioni dove morire ok ma vediamo se ok eccolo lì la terza è qua ok a questo punto dunque lui calcolerà questi tre valori all'inizio alla fine questi cinque valori 3 di qua e 3 e 2 di qua naturalmente mettendo i carichi questi saranno tendente verso 0 questo e questo qua e anche questo qua perché fa metterò solo carichi lungo questa direzione qua a questo punto devo mettere i carichi dunque tasto destro metto una forza e avevamo detto mettiamo andiamo qui ai primi io mi sono già messo i punti eccolo qua dunque posizionerò qui ok la direzione sarà qua questo mi da mi da direzione e voglio la direzione non voglio i momenti ma voglio le forze in direzione contraria così va giù e qui metto abbiamo detto 2000 newton ok faccio la stessa cosa andiamo vedere qui vediamo se troviamo eccolo qua qui solo che questa volta mettiamo 5 mila dunque 2000 andiamo forza mettiamo il punto qui mettiamo che deve essere questo mi dà la direzione metto questo solo forza e metto 5000 direzione contraria ok poi vado a mettere l'ultimo quello di 1500 newton vado mettere carichi esterni forza vado a prendere questo punto naturalmente devo dargli la superficie o anche un'altra direzione ok direzione contraria e andiamo a mettere 1500 e schiaccio ok a questo punto ho le mie tre forze abbiamo 2000 questa 5000 questa qui e 1500 questo adesso sono tutto a posto posso potrei far tasto destro con la mesh ma posso anche andare direttamente qua faccio esegui lui dovrebbe in automatico anche farmi la mesh faccio esegui adesso mi dovrebbe fare tutti i calcoli vediamo ok è partito ok qui la mia deformata adesso quello che mi interessa sono i diagrammi ma comunque vediamo adesso opzioni risultati risultati ok possiamo andare elenco forze travi per esempio andiamo a vedere l'elenco delle forze travi vediamo cosa cosa mi dà ok vediamo se ok schiaccio questo schiaccio ok ok e mi dà tutto l'elenco delle forze nei vari sotto elementi che sono qua lui ne ha fatti 395 ha impostato lui la mesh ha impostato posso vedere anche mostra solo i punti finali della travi quindi schiaccio qui vediamo se mi fa non fa ecco schiaccio ok dunque le mie reazioni vincolari e 4 4600 newton taglio 1 e 3900 newton e proprio come il risultato andiamo a vedere e andiamo a vedere che la reazione vincolare rb e 4600 newton e la ra e 3900 come come viene anche in solidworks però io poi posso una cosa più interessante sono i diagrammi di taglio e di momento allora a questo punto per andare vado qui in risultati tasto destro definisce diagrammi di travi dunque vado qui schiaccio vediamo se parte ok parte forza di taglio direzione 1 anche qua bisogna stare attenti però in questo caso sono quasi sicuro che direzione 1 bisognerebbe poi andare a fare c'è un metodo per scoprire però uno se non trova uno trova l'altro ok direzione ok direzione coso qua cerco di aumentare il possibile perché io adesso avrò un problema i 5.000 sono troppo lunghi ok metto 100 qui per avere i diagrammi più grandi possibili non ho trovato altro metodo per adesso adesso se riesco a trovare un altro modo per ingrandirli ve lo dirò e faccio ok opzioni grafico mostra minima mostra massima ok qua possiamo mettere mobile qui possiamo mettere i decimali dopo la virgola quante quante cifre e mettiamo impostazioni vediamo ok facciamo così e andiamo a vedere il diagramma di taglio che già qui mettendo 100 si vede già qui qui è il valore massimo qua qui è il valore minimo e il diagramma di taglio corrisponde andiamo a vedere poi il risultato corrisponde con questo perché noi ce l'abbiamo qui ok lo giriamo così comunque corrisponde a quello la a quello teorico andiamo a vedere qui ok corrisponde e ecco se vogliamo una cosa quello che io io voglio poi perché qui non è che si possano vedere molto i valori qui allora io posso andare benissimo in sonda ok clicco qua ho il corpo e faccio aggiorna e qua ho tutti i valori dei vari nodi ok i valori dei taglio dei vari nodi se voglio vedere il grafico questo è molto interessante schiaccio qua qua e qui posso allargarmi e qui vedo proprio il grafico del mio taglio ok e in percentuale naturalmente del questa è la posizione iniziale è in percentuale dunque questa posizione iniziale e questa è la posizione finale e dunque non è qui non c'è non c'è la lunghezza non ci sono i 5000 metri ma sono in pratica la percentuale dei 5000 ok dunque uno dovrebbe fare i calcoli per vedere nella posizione comunque qui noi andiamo qui e vediamo che abbiamo un valore di 3009 più o meno io vedo perché anche qua poi si può esportare dunque uno se vuole vedere i valori esatti può esportare in csv dunque in formato excel e poi se lo può graficare questo anche in formato excel dunque qui noi abbiamo un 3009 ok e un 3009 newton poi vado qui adesso me lo scrivo 3009 sul taglio vado qui ho un 1.9 1.892 prossimo a 1.9 perché non è che sono molto preciso bisognerebbe poi ripeto esportare con 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 su esse excel dunque si vedono i valori perfetti e vado qui e qui un 3100 è un meno 3100 e qui abbiamo un 4000 meno 4600 newton e che poi se noi andiamo a vedere qui sono esattamente i valori di fatti abbiamo 4600 3.000 meno 3.100 meno 1.900 e poi abbiamo il nostro 3.900 dunque al di là dei decimali corrispondono corrispondono quasi perfettamente con i valori teorici che uno trova la stessa cosa ecco l'importante è questo comando che a me piace molto perché qui soprattutto non si vede benissimo ho dovuto allargare così via invece là si vede molto meglio i singoli valori però il diagramma del taglio si vede bene anche qua e la stessa cosa idem posso fare con quello dei momenti dunque vado con risultati tasto destro definisce diagramma di travi questa volta però qui solido non è direzione 1 c'è tutto poi una spiegazione è direzione 2 perché è il momento rispetto alla direzione 2 e viene poi messo su un piano di direzione 2 anche se dovrebbe essere messo sull'altro piano però va bene il risultato va bene e vado in momento su direzione 2 anche qui metto 100 è il massimo che posso mettere gli dico ok e questo è il momento il diagramma dei momenti anche qui vado qui tasto destro sonda prendo qui ok faccio aggiorna e poi vado sul grafico ok lo allargo al massimo che posso e qua vedo proprio come qua parte da zero arriva al attorno lo vediamo qui qua sotto a 4.000 e 6 attorno ai 4.000 e 6 newton per metro poi vado qui e sono 7.700 7.700 newton per metro e poi vado qui ok e vado a vedere siamo attorno ai 3.900 e 900 newton per metro andiamo a vedere qui e in momenti abbiamo un 3.900 newton per metro un 7.700 e un 4.600 che sono in questa posizione qua ok spero di essere stato il più chiaro possibile ci vediamo alla prossima arrivederci